buon salve e benvenuti a questo video in cui parleremo di diciamo creare musica con un pianoforte come avere un pianoforte dentro l'AMS come fare della musica e mi ispirerò a musica più o meno da film stile in audi però diciamo vediamo vediamo quello che succede soprattutto la cosa principale da fare all'inizio è scaricare dei pianoforti sì perché l'AMS non ha dei pianoforti preimpostati ma ha uno strumento che si chiama soundfont player riproduttore di file soundfont e succede che su internet ci sono vari pianoforti in formato soundfont in particolare in descrizione trovate il link per scaricare un piccolo archivio in rar che potete aprire con 7zip con winrar con il programma che volete o se siete su linux anche con i gestori di archiviazione di linux o su mac o di mac e contiene 25 file sf2 questi file bisogna inserirli in una cartella che mostro adesso a schermo e una volta inseriti lì aprendo il programma si troveranno in i miei campioni che è questo pulsantino qua e scendendo chiaramente alla cartella in cui lo avete messi io li ho messi in una cartella alla fine della mia lista che ho chiamato soundfont e sono questi 25 piano soundfonts ora questi non sono tutti pianoforti acustici ci sono anche pianoforti elettrici di questi diciamo che ci interessa di meno però insomma prendiamo per esempio non so io preferisco questo fazzioli gran piano facciamo un bel tasto destro e facciamo in usa nuova traccia nel song editor il song editor è quello che gestisce tutta la canzone quindi va messo lì questo suona un po così un po basso ma su soundfont player c'è questo piccolo guadagno che possiamo alzare assai perché per suonarlo potete utilizzare la tastiera del computer così come potete connettere in midi una una tastiera midi e prima di aver accesso il programma una volta acceso il programma si troverà qui in questo caso ho una scheda audio ma non c'entra niente quindi abbiamo un pianoforte passo principale cercare di farlo suonare il meno meglio possibile forse bisogna aumentare ancora un pochettino il volume bene dicevo lo prima che passo a fare è cercare di farlo suonare un pochettino meglio e lo facciamo attraverso due effetti quindi questa è la scheda plugin che abbiamo utilizzato per aumentare un pochettino il volume adesso andiamo alla scheda effetti che si chiama questa fx premiamo su aggiungi effetto e inseriamo in particolare un riverbero e un filtro per un riverbero basterà scrivere in inglese reverb o addirittura anche rev e possiamo scegliere tra questi due scegliete quello che piace di più per un pianoforte io preferisco questo riverbero qua che ha questo effetto qui diciamo fa finta che il pianoforte si trovi dentro una sala o qualcosa addirittura potete diciamo allargare la sala queste mi sembrano già delle buone impostazioni aumenterei un attimo il wet che è la quantità di volume del riverbero in modo che si senta un po' di più mentre il dry ecco la quantità di volume del volume del suono principale infatti se lo mettete a zero sentirete soltanto il riverbero questione di gusti un altro strumento un altro effetto molto utile per un pianoforte è assolutamente il dual filter che è uno degli effetti propri dell'AMS prima scrivete dual e troverete questo dual filter lo sfide funziona un po' in questo modo c'è un filtro sopra un filtro sotto cosa fa un filtro un filtro toglie una parte delle frequenze per esempio se vogliamo un suono più cupo basterà mettere un passabasso metto il mix a meno uno in modo che venga preso in considerazione soltanto il filtro delle impostazioni sopra è un filtro passabasso molto basso porterà una cosa del genere che non ha funzionato ma forse perché ci sono molte frequenze ancora acute perché 3000 hertz sono ancora molto alti considerate che queste frequenze qui sono all'incirca 440 hertz 440 hertz significa che 3000 hertz è molto più alto se invece scendiamo proprio a 600 500 hertz il suono è molto meno brillante e sulle note più acute si sentirà molto di meno infatti neanche si sente quasi possiamo scendere ancora di più per esempio a 177 hertz a cosa può servire questa parte del suono? cercare di migliorare un pochettino la parte bassa delle note che è effettivamente molto poco udibile in questi pianoforti e che potete portare sopra con il guadagno quindi per esempio potremmo portarlo c'è tanto di guadagno senza esagerare perché diciamo il sound font non è della qualità migliore ci sono alcune note che sembra registrata a destra altre a sinistra quindi c'è questo aspetto ora abbiamo parlato della parte bassa che è diciamo questo primo filtro possiamo riportare il mix a 1 facendo tasto destro e reimposta a 0 scusate a 0 perché è meno 1 1 0 in questo modo avremo anche la seconda parte che viceversa non vogliamo filtrare quindi abbiamo il passo a basso la mettiamo in alto se vogliamo possiamo prendere il passo alto quindi ho selezionato passo alto portarlo abbastanza in basso quindi per esempio a non so 1500 hertz e aumentare il guadagno questo farà sentire un pochettino di più le frequenze acute però non mi piace molto come effetto quindi torno al passo a basso messo in alto addirittura diciamo il guadagno lo riportiamo per esempio a 120 e così dovremmo avere un buon pieno forte molto basso di volume ancora se vogliamo portare il volume molto molto in alto possiamo utilizzare un amplifier un amplificatore e alzarlo un po' ora comincia a essere troppo perché cominciano a sentirsi dei click e allora forse è meglio di no e quindi eviteremo direi che il volume è abbastanza buono tanto in ogni caso deve stare come sottofondo di un film questa musica no? bene possiamo togliere di mezzo tutto ciò che non ci serve e abbiamo il nostro suono di pianoforte questo non ci serve questo non ci serve questo diciamo che se volete ci serve una cosa che si può fare con il mixer è quella di prendere la parte acuta del suono la parte bassa del suono e metterli a destra e a sinistra come se fosse un pianoforte davanti a noi però per un film forse non è utile questo aspetto ora parliamo un pochettino di come costruire una melodia dunque lo stile in audi è uno stile minimalista questo è il motivo per cui l'ho scelto minimalista vuol dire che con poche note scelte però in modo accurato si ottengono dei risultati che possono stare molto bene in particolare per la musica da film vi do qualche consiglio pratico primo consiglio suonate tutto in la in la vuol dire utilizzare tutte le note bianche e ripetere molte volte in la e in mi diciamo in la minore in questo caso come faccio a rendermi conto che sto scrivendo le note giuste diciamo viene un pochettino complicato beh si può fare una cosa per esempio qui nel piano roll abbiamo aperto il piano roll forse non ho spiegato bene questo aspetto ho inserito un blocco ho aperto il piano roll facendo doppio clic ok siamo dentro il piano roll quindi c'è questo pianoforte e le note andranno scritte qua però prima di scrivere le note dobbiamo selezionare le note della scala di la minore qua avete un menu scale apriamo questo menu scale e sceglieremo scala minore non vogliamo nella minore armonica nella minore melodica ho notato che lo stile in audi preferisce la scala minore selezioniamo adesso un la qualsiasi facciamo tasto destro più che selezioniamo mettiamo il mouse sopra un la facciamo tasto destro e possiamo premere su evidenzia la scala corrente in questo modo saranno selezionate in verde o in un altro colore se avete un'altra versione di lms tutte le note che appartengono alla scala di la minore quindi per esempio se volessi prenderle tutte ho inserito una nota l'ho accorciata un pochettino in modo che sia di un ottavo due sedicesimi quindi questa abbiamo una scala di la minore come vedete sono tutti i tasti bianchi presa questa scala di la minore cosa facciamo? allora per prima cosa nella parte della tastiera che va da c1 a c3 se vogliamo anche a la3 effettivamente c sarebbe do la sarebbe invece a che è una nota della scala in inglese se hanno questo comunque in ogni caso mi interessa che c è do quindi per le prime ottave ci vogliono soltanto degli accordi quindi per esempio un accordo tipico potrebbe essere l'accordo di la minore mi raccomando la minore solo che è molto basso questo è la minore quindi non ci conviene mettere le note così vicine con le note molto basse magari il do lo portiamo un po' più in alto è ancora troppo basso se il suono è troppo basso è meglio aumentare un po' tutto bene allunghiamolo un pochettino per allungare tutte le note insieme possiamo selezionarle e allungarle ok abbiamo un accordo minore sul la in cui ho portato la terza cioè il do un'ottava sopra quindi come vedete nella prima parte forse effettivamente sono salito un bel po' rispetto a quello che dicevo quindi nella prima parte della tastiera ci vanno delle note di accordo tra l'altro mi pare che il progetto sia molto veloce quindi preferisco abbassare il ppm a 80 che mi sembra un metronomo abbastanza buono e questo è un primo accordo che diciamo come sottofondo ci sta benissimo si sta benissimo da sol cosa possiamo mettere dopo questo primo accordo possiamo fare varie cose ho notato che gli accordi o rimangono fissi sulla stessa diciamo sulla stessa sullo stesso accordo quindi cambiando un pochettino la posizione delle note per esempio potrei mettere quindi sono passato da A-mi-do a A-do-mi forse non bisogna ripetere questa bisogna allungarla in modo che non si risente troppo ok a questo punto la cosa che vi consiglio è di prendere una direzione e perseguirla per esempio potremmo prendere una direzione in discesa quindi se qui in basso c'è un A magari potrei scendere a G poi potrei scendere a Fa e si potrei scendere a Mi ricordiamoci che il Mi è la quinta sul A che è in questo utilizzo molto modale della scala minore può essere molto utile quindi se è sul A-do e il Mi quindi sono le diciamo le note a distanza di due La Do Mi abbiamo sempre saltato una nota questa si chiama Trial sul Sol potremmo metterci il Si e il Re quindi partendo da Sol possiamo saltare due note andare a Si e a Re in particolare direi di andare prima sul Re per prendere la nota di questa lunghezza ho prima selezionato una nota della stessa lunghezza se seleziono questa ottengo una nota di questa lunghezza se seleziono questa poi seleziono tutta una nota di questo tipo bene che nota ci manca è il Si possiamo inserirlo così come possiamo non inserirlo io in questo caso per esempio non lo voglio inserire il Suono non sarà troppo brutto perché qua abbiamo una nota che scende una nota che sale se voi tenete questo movimento molto contrario si dice il risultato sonoro sarà interessante in ogni caso non so perché ma questo mi richiama una discesa dopo questo Re ci voglio mettere un Si come vedete il Si ci sta benissimo se qui abbiamo il Si qui potremmo anche tenere il Re per mantenere lo stesso ritmo precedente lo ripeto a questo punto siamo scesi sul Fa il Fa è composto da Fa La e Do La e Do ce ne avevamo anche prima e sarebbe carino riprenderli in particolare prima avevamo La, Mi, Do per un qualche motivo preferisco tornare sul Do mentre non possiamo ovviamente potremmo mettere il Mi non c'è problema a mettere il Mi perché diciamo sarebbe un accordo di settima però per rendere le cose più semplici mi mantengo sul Fa La Do qua è più vicino il Do e in questo modo abbiamo ripetuto in modo contrario a questo punto potremmo scendere se scendiamo ripetiamo un pochettino il movimento che c'è qui e lo facciamo per non ripetere la doppia nota questo viceversa lo vorrei variare e magari potrei farlo salire a Fa con questo piccolo salto questo salto vorrebbe richiamare l'attenzione quindi come sottofondo musicale dovete stare attenti a quando richiamate l'attenzione vediamo cosa viene fuori bene abbiamo un primo movimento su questo Mi possiamo sbigiarci un po' perché potremmo o ripetere il La Do Mi infatti anche se qui sotto c'è il Mi nessuno ci vieta di fare La Do Mi oppure potremmo utilizzare un Mi Sol Si però non Mi non Mi imbaghisce troppo io direi di utilizzare il Nuo La Do Mi in particolare qui abbiamo questo Fa potremmo scendere a Mi e questo rimane là e per continuarlo potremmo salire vediamo cosa possiamo fare forse possiamo anche tenerlo lungo perché è sostanzialmente la quarta battuta ogni quattro battute potete creare una sorta di variazione e questo diciamo farà un punto di riposo mentre qui c'è qualcosa che cresce anche se è noto e scendolo qua c'è qualcosa che sta crescendo qua si può anche tenere un punto di riposo vediamo cosa succede e si è creata un po' di tensione si è creata molta molta tensione per risolvere questa tensione vi do un piccolo consiglio che va un pochettino fuori dalla regola delle note bianche dalla scala minore che abbiamo utilizzato prendo in prestito momentaneamente questo G10 questa nota nera che viene dalla scala minore armonica anche da quella melodica può andare teoricamente corretto vediamo cosa succede ok abbiamo un movimento abbastanza semplice un po' in discesa questo potrebbe essere un problema infatti quando riattacca forse visto che siamo sul Mi potremmo addirittura decidere di andare su B vediamo cosa succede aumento un pochettino accento giusto per velocizzare qui ok diciamo è un pochettino più come dire più fluido il movimento solo che è un po' meno da film quindi preferisco tenere preferisco tenere il Si preferisco tenere qua questo G10 chiaramente questo si può ripetere senza problemi ma nessuno vi vieta di variarli sempre tenendo questi accordi e questa è un po' la parte bassa del suono saliamo un pochettino in questa parte è meglio utilizzare dei suoni diciamo una parte diciamo una sezione un pochettino più ritmata ricordate che diciamo in La minore in questo modo modale utilizzare La minore è molto molto utilizzare La quinta la regola base è sempre di tenere le note dell'accordo ma ci sono un po' di variazioni possibili quindi se nella prima battuta avevamo l'accordo Lado Mi potremmo cominciare con O Mi ma nessuno ci vieta di scendere e fare qualcosa scendendo a Re però non mi piace molto forse mi piace sul Fa ok abbiamo creato un piccolo movimento minimalista non è il massimo devo dire però potrebbe servire se ho fatto questo poi quando scendo a Sol lo sto creando in questo momento non c'è niente diciamo pre-confezionato e pre-creato quindi eventualmente questa parte magari la taglio un po' potremmo scendere visto che il basso è sceso potremmo scendere ricordate sempre di utilizzare le note bianche vediamo cosa succede adesso non mi piace tantissimo forse dovremmo variare un pochettino questo ritmo e farne uno un pochettino diverso in particolare potremmo fare riprendo un po' questo ritmo di sotto e faccio una piccola differenza di ritmo tra un mezzo e l'altro della battuta adesso forse possiamo ripetere tranquillamente questo movimento a questo punto sarebbe naturale scendere potremmo fare anche le variazioni di altro tipo potete fare tutto quello che volete l'importante è che le note in cui c'è più accento e più enfasi in particolare qua la prima quella su cui mi soffermo sono note dell'accordo quindi se qui avevamo fa la do ho utilizzato fa la do effettivamente ho utilizzato fa do quindi potrei anche utilizzare re fa no 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 c'è bisogno di fa la do non posso fare altro sì meglio tenerci sul fa la do in particolare potrei scegliere potrei salire a fa vediamo che succede a questo punto interruire una piccola variazione cosa ci stiamo preparando a fare ci stiamo preparando a un mi 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 la e diventa mi mi sol facciamo una cosa particolare qui abbiamo il la però un la che tende molto verso il sol accentiamo questa cosa intromettendo questo sol qui richiamo un attimo il la perché richiamo il la? per richiamare poi il movimento che ci sarà qui qui abbiamo un la che scende al sol qua comunque abbiamo un la quindi il la lo posso inserire tranquillamente però questo la sol che sto per inserire la sol sol dieci chiaramente diciamo questo qua richiamo un pochettino questo movimento e quindi lo accento ancora di più vediamo un pochettino che succede non mi piace tantissimo forse potremmo allungare un pochettino questo là vediamo che succede non mi piace neanche forse bisogna mantenere dei ritmi più semplici possibile quindi tengo questo ritmo così ops a questo punto questo è un po' troppo teso quindi voglio richiamare lo stesso ritmo che ho qui forse così un po' meno teso ok diciamo che potete variare un pochettino per ottenere risultati diversi a questo punto dopo questa introduzione in questo modo possiamo inserire le cose un pochettino più ripetitive che adesso andiamo a fare però una cosa molto importante è che su tutte queste note che io ho suonato diciamo che ho scritto in questo modo si possono inserire una serie di accorgimenti che servono a dare un po' più enfasi in particolare si può inserire un po' di espressione un po' di espressività anche possiamo chiamarla così però espressione che significa? significa che io per esempio questa piccola sezione che seleziono potrei renderla un po' più interessante facendo una sorta di crescendo ossia parto da un volume basso e arrivo a un volume un pochettino più alto in questo modo io le modifico tutte se non erro se tengo premuto shift no non succede come possiamo fare per fare questo volume in aumento possiamo fare che duplichiamo questa traccia facciamo così la parte bassa la teniamo in questa traccia ma noi la cloniamo una volta clonata seleziono tutta la parte acuta che ho scritto quindi ho selezionato una prima parte no sono già tutte faccio un taglia questa la cancello fatto tasto destro elimina e a questo punto faccio incolla per ricordarmelo qui ci scrivo basso faccio tasto destro sul nome e scrivo basso e qui faccio acuto o basso e alto o grave e acuto insomma potete scegliere voi questa parte la lasciamo semplice ora vedremo che avrà anche lei un'espressione mentre in questa parte qui togliamo la selezione quindi ho il strumento di selezione premo a vuoto e ho tolto la selezione e a questo punto possiamo sbizzelerci un pochettino con questo crescendo di cui parlavo seleziono la prima nota la mettiamo abbastanza bassa ecco 23 va benissimo quindi teniamo premuto shift e selezioniamo il volume massimo che vogliamo raggiungere sull'ultima nota no scherzavo non funziona questa pensavo che funzionasse in realtà dobbiamo trascinare noi questo qui non è un controllo semplicemente di volume è un controllo di di pressione velocity in base allo strumento se avete magari un VST come pianoforte che fa automaticamente una serie di cose variare da qui la pressione può essere molto utile per questo motivo non sto utilizzando un'automazione sul volume anche se abbassare questo volume qua che è lo stesso di questo volume qua ha lo stesso effetto a questo punto potremmo ripetere la stessa cosa oppure possiamo variare ricordate che stiamo fingendo e c'è qualcuno che suona quindi se non siamo precisi non cambia niente ti porta attacca forse qui ho tratto un pochettino troppo alto sapete cose? era uno sul E io riscendo a E vediamo che succede così quindi ho aggiunto un po' di volumi vari vediamo cosa succede per ripetere questa sessione seleziono con il tasto destro sulla barra del tempo apro il loop e vediamo che succede mi sa che ho fatto un po' troppo nel senso che questi volumi sono troppo bassi e quel volume è troppo acuto quindi a basso viceversa questi io devo portare un pochettino più in alto e un po' meno per evitare un pochettino di questo rumore quando utilizzate volumi troppo alti nel mixer fate aggiungete effetto e scrivete fast c'è questo fast look head limiter inseritelo fa tutto lui questo dovrebbe riuscire a evitare un po' di queste distorsioni dovute a volume alto diciamo che non è buonissima pratica sarebbe molto meglio farci caso da soli ok a questo punto siccome siamo in musica minimalista possiamo anche ripetere la stessa cosa però variando qualche piccola cosa quindi ripetiamo la stessa cosa per ripetere la stessa cosa teniamo premuto control e trasciniamo quindi per esempio se qui eravamo scesi a mi su mi sol si anzi no qui siamo scesi a sol ecco potremmo salire a si e rimanerci aggiungiamo una traccia di automazione attraverso questo pulsante qua prendiamo questo tempo e tenendo premuto control lo trasciniamo qua dentro ok abbiamo creato una piccola traccia di tempo che possiamo allungare e questa controlla effettivamente il tempo metto il loop un pochettino più avanti ora non dobbiamo variare troppo qua come vedete c'è tutto il controllo da 10 a 999 possiamo fare un piccolo zoom no questo non è lo zoom lo zoom è questo qua verticale per esempio a 400% ecco e possiamo variare forse anche il 200% possiamo variare tra questo 60 e 90 quindi direi di cominciare piano comincerei tipo sul 71 ecco e poi verso la fine della battuta salire fino a 76 questo è un salto troppo dritto utilizziamo questo pulsante tiro qui per renderlo più mitigato a questo punto sull'altra parte di crescendo direi di scendere di nuovo proprio fare un movimento di discesa e quindi non ho mai fatto questo esperimento e dopo sulla fine direi di tenere il volume il tempo reale solo che è troppo ripida questa cosa quindi direi di portarla così vediamo che succede non lo so questo è soltanto però per una battuta ops questo è soltanto però per una sezione forse dovremmo fare la stessa cosa per la seconda sezione forse per la seconda sezione dovremmo mantenerci sulla stessa parte questo 1, 2, 3 4 battute adesso dobbiamo arrivare fino all'ottava battuta io terrei un po' lo stesso tempo scendo giusto a 77 qua faccio una discesa un pochettino più ripida tipo 74 mi mantengo fermo per una battuta anzi salgo giusto a 75 e qua rimango vediamo che succede non lo so vediamo ok abbiamo giusto aggiunto un pochettino di variazione se vogliamo possiamo modificare anche un pochettino qua i volumi per esempio il secondo di tutti potrei abbassarlo un pochettino vediamo qual è il risultato è la stessa cosa dopo tanto era uguale ops tengo sempre premuto ctrl ok questo è un primo esempio altri possibili esempi diciamo ci spostiamo da questo lato tengo premuto shift per selezionare il punto inizio sempre col tasto destro ripeto la stessa base diciamo lo stesso basso viceversa per la parte acuta faccio una cosa un po' diversa questa ce la dimentichiamo un attimo per ricordarci che non dobbiamo suonarla con questo anzi facciamo una cosa duplico questa la togliamo facendo ctrl tasto destro diciamo così l'abbiamo messa in mutuo per fare invece per cancellarlo possiamo fare alt tasto destro eh mi sbaglio vabbè facciamo elimina tasto centrale del mouse ecco ok invece in questa parte qui facciamo un piccolo effetto qua abbiamo gli effetti di prima perché non ho clonato la traccia e aggiungiamo un delay facciamo proprio delay e selezioniamo il calf vintage delay che è quello secondo me più semplice qui abbiamo il tempo da metronomo tempo da metronomo che è lo stesso che c'è lì siccome abbiamo fatto delle varie serie di tempo forse ci conviene collegarli e li colleghiamo trascinando sempre questo 70 sul tempo in questo modo sono collegati lui è salito in questo caso non lo facciamo scendere a 70 vediamo se è vero che questa monopola scende durante questa parte sì devo togliere il loop sta effettivamente salendo e scendendo ok a questo punto riaccendiamo il loop ok cosa fa questo delay? ora lo vediamo aumentiamo la quantità di delay facciamo un... sì 0,8 va benissimo e il risultato è questo voglio un pochettino più veloce per farlo più veloce potrei o cambiare il tempo però l'abbiamo collegato quindi non ci conviene oppure aumentare il subdivide ok forse è anche più veloce ancora se abbassiamo questi a questo punto utilizziamo poche note pochissime note prima avevamo un la do mi faccio un mi forse è giusto un do poi siamo scesi a sol si re poi abbiamo fatto un fa la do e poi era quella mi sol si con il sol diesis facciamo un mi qui ho cambiato un po' il ritmo ok aumentare un pochettino il volume dry e ripetiamo vediamo che succede non lo so neanche io non lo so neanche io ok non mi piace che va troppo a tempo quindi anziché farlo sul quarto in questo caso ho fatto 8 sedicesimi sono un quarto facciamo 6 sedicesimi sul quarto però così distorcio un po' troppo il tempo facciamo il tempo a destra 8 il mix lo riporto un attimo a 1 tempo a destra 8 tempo a sinistra 6 vediamo niente è troppo veloce io riporto questa 8 vediamo che succede insomma possiamo sbizzarrirci qua adesso sta al vostro lato creativo quindi ricapitolando questi 40 minuti di video in cui abbiamo imparato a fare una piccola parte di armonia che può essere un basso una base per un sottofondo da film cosa abbiamo fatto? siamo partiti da una tonalità in questo caso il la minore che è la tonalità che sta su tutte le note bianche in cui partiamo e finiamo su la infatti quando dovete concludere il brano basterà fare la domina e avete finito avete fatto la vostra cadenza avete finito siamo partiti da quell'accordo abbiamo deciso di scendere con tutti gli accordi con dei momenti molto dolci, lenti potevamo anche salire magari potevamo scendere poi da do a sol possiamo fare varie cose insomma i movimenti se li suonate velocemente assomigliano quasi al blues già mi immagino un pochettino di swing sopra sono le stesse note già partono le voci da swing nella mia testa già partono le voci da swing però messe lentamente e accordalmente suona come una musica da film abbiamo preso questi e abbiamo preso gli accordi quindi gli accordi e le triadi come li abbiamo costruiti a partire dalla nota base in questo caso era il la e poi in questo caso il so a partire dalla nota base ogni due note otteniamo una nota dell'accordo quindi ci sono la, si, do, re, mi noi prendiamo soltanto la, do, mi e abbiamo costruito queste note in modo molto arbitrario a seconda di quello che mi piaceva all'orecchio così proprio arbitrariamente selezionate queste abbiamo staccato la parte di basso e la parte di acuto in modo da poterle controllare separatamente e nella parte acuta abbiamo creato dei movimenti un pochettino più ritmati in cui partivamo e accentuavamo sempre le note dell'accordo di riferimento quindi se qui c'era un la minore ci doveva essere la do mi se qui c'era il sol ci doveva essere sol si re eccetera ma con delle variazioni funziona meglio se le variazioni sono nei tempi meno importanti quindi non sulla prima nota non la nota che abbiamo allungato ma tutte le altre note ci possono andare qua ci potete anche andare a orecchio sulle note a variare se andate sulle note dell'accordo siete sicuri ma per ottenere delle cose un pochettino più interessanti è meglio utilizzare le note per come vi va un po' a orecchio e abbiamo costruito la parte acuta un altro esempio di parte acuta è stato aggiungere un river no dove ero? qua scusate è stato aggiungere un echo, un delay e una volta aggiunto il delay abbiamo utilizzato pochissime note forse sapete cose io seleziono tutto con ctrl A e un attimo se c'è il delay vediamo cosa succede se li accostiamo quindi sposto un pochettino tutto posso anche utilizzare lo strumento selezione e spostare tutto con la selezione vediamo che succede se li suoniamo uno davanti all'altro io cambierei anche il tempo anche se non conviene cambiare il tempo mentre c'è il delay perchè si creano dei piccoli click però noi proviamo, vediamo quindi faccio sempre il mio lusosissimo ctrl copia che non funziona ah perchè c'è lo strumento selezione vedete questo è un pochettino più bianco perchè quando copiate un blocco di automazione non viene copiato il riferimento all'automazione quindi dobbiamo riprenderlo fine non è un pochettino più bianco Come non detto, meglio non farlo, meglio non cambiare il tempo Direi di scendere semplicemente qua a 70, perfetto Colto tutto il resto con il tasto destro Non fatelo perché ci sono dei click Purtroppo lo strumento LASPA non è fatto esattamente per la MS Ah sì, non ve l'ho detto, ma in questo tipo di musica va benissimo aumentare a un certo punto di un'ottava Anche per esempio se avessi fatto questa Mettiamo che la seleziono soltanto questa Prendo tutto e porto tutto per un'ottava Faccio CTRL A e mi pare CTRL SU Esatto, CTRL SU Vediamo che succede Funziona, più o meno funziona Ok, questo è già abbastanza, devo dire Spero che vi ho dato le nozioni abbastanza soddisfacenti su come creare una piccola base da film Chiaramente una volta fatto tutto questo, fate file, fate salva spesso mi raccomando E dopo che avete finito di fare tutto il vostro progetto, fate esporta Selezionate la vostra cartella di esportazione C'è già un... vabbè, mettiamo un attimo un nome Forse se fate in oggi, perché wave è molto molto grande Mentre oggi è un pochettino compresso, quindi il suono magari è un po' più deteriorato ma va benissimo Poi premete su save E come impostazioni vi consiglio 192 kbit per seconde, questa non importa quando salvate in oggi Queste potete lasciarle un pochettino come volete, tanto ci sono le impostazioni suggerite E queste non le dovete selezionare Premete inizia e avete la vostra traccia Io faccio il mio salva Tutorial Piano Piano, eh? Ok E questo è tutto Questo è giusto per darvi un po' un'idea di come provare a lavorare con l'EMS In tutto questo io sto utilizzando versione dell'EMS 1.2 in fase di beta Quindi potrebbe non essere stabilissima E tutto ciò che ho fatto può essere fatto esattamente allo stesso modo nella versione invece ufficiale del programma 1.1.3 Non ho fatto nulla di ciò che c'è di nuovo Per esempio come di lei ci sarebbe il multitap Multitap echo Che è molto più semplice da utilizzare Ma ne parlerò in un altro tutorial Bene Questo è tutto Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima